Negli ultimi cinque anni, Bergamo è diventata più sicura. I reati sono calati, ma il Comune ha continuato a investire sulla sicurezza. Infatti, molti agenti della polizia locale, che prima erano negli uffici, oggi sono impiegati per strada. Non solo. Sono stati assunti 21 nuovi agenti. E la lotta allo spazio per strada è stata intensificata. 86 telecamere sono state sostituite e ne hanno installate 21 nuove. La sicurezza è migliorata anche nei quartieri, grazie alle pattuglie di quartiere, al coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata, agli investimenti nell'illuminazione e sulla messa in sicurezza di molti percorsi casa-scuola. Sì, ci siamo dati tanto da fare, ma io voglio Bergamo sempre più sicura. Aumenteremo l'organico della polizia locale almeno a 200 agenti e creeremo le unità mobili di quartiere composte da 4 agenti. Useremo i cani antidroga per contrastare lo spaccio di strada, che consideriamo una priorità, insieme ai furti e alle truffe verso le persone anziane. Sosterremo poi la nascita di gruppi di controllo di vicinato in ogni quartiere, perché crediamo moltissimo alla partecipazione attiva dei cittadini. Ma la sicurezza per noi non è solo controllo del territorio, è anche illuminazione, pulizia, decoro dei luoghi e sostegno a chi vive in condizioni di marginalità. Faremo tutto questo con impegno, per rendere Bergamo sempre più sicura. Domenica 26 maggio, dai fiducia al tuo sindaco. Vota Giorgio Gori. Grazie a tutti.